ok abbiamo visto una volta scorsa il concetto di scomposizione di un vettore cioè se io prendo un vettore nel piano quindi lo rappresentiamo con una freccia fatemelo tracciare in che ne sono in rosso ok questo è caratterizzato chiamiamolo V è caratterizzato da tre grandezze abbiamo visto una lunghezza o intensità che la distanza tra i due estremi tra la punta la coda e la punta b con la lunghezza del vettore si intende lunghezza intensità la si indica con il simbolo di vettore quelle due barre ed è praticamente rappresentato dalla lunghezza del segmento a b dove a è la punta e b la freccia poi c'è la direzione che è la retta sulla quale il vettore si trova potete disegnare in verde per esempio ecco anche questa è la direzione e poi c'è il verso che corrisponde alla scelta se iniziare da a e finire in b oppure se il vettore inizia i b e finisce in a d'accordo per riuscire a svolgere efficacemente le operazioni con i vettori abbiamo visto che è utile scomporli la scomposizione del vettore se volete è l'operazione inversa alla somma cioè prendo il vettore e lo immagino come prodotto della somma di due componenti una lungo un'asse e una lungo l'altro asse per comodità i due assi si prendono perpendicolari tra di loro perché così riusciamo a utilizzare il teorema di pitagoro per calcolarne la lunghezza quindi per esempio se riscrivo il vettore di prima posso proiettarlo lungo le due i due assi quindi avrò orizzontalmente ov x immaginatevi proprio di prende una retta verticale che va attaccare l'asse delle x in questo punto oppure posso proiettarlo lungo l'asse sull'asse delle y quindi prendo una proiezione orizzontale quindi questa è la componente v y l'abbiamo visto anche in possiamo prendere per esempio la applicazione ecco del fetta di poi magari vi manderò il link questa qui ho scaricato l'app sul tablet ma in realtà si può cederli anche via internet sono gratuite sono molto ben fatte alcune sono anche in italiano sono state fatte dal dipartimento di fisica dell'università del colorado a boulder accogliamo per esempio esplora in 2d qui abbiamo il piano cartesiano e due assi x e y prendiamo un vettore a lo vogliamo partire dall'origine vedete che posso spostando la punta cambio per esempio le componenti qui in alto avete la componente x la componente y per esempio a x misura 15 e y 9 un'altra cosa che vediamo e qui abbiamo le componenti proiettate su x e y con le quali sono se le vedete un'altra cosa importante che quella su cui ci concentriamo oggi è il fatto che cambiando ovviamente l'orientazione del vettore cambiano anche le sue componenti adesso cerco di mantenere la lunghezza la stessa ma come vedete le componenti x e y si allungano si accorsino a seconda di come orientato il vettore un altro modo per determinare l'orientazione è proprio considerare l'angolo che il vettore forma con un asse di riferimento tipicamente l'asse delle x adesso con questa spunta vedete che ho fatto apparire l'angolo sotto vediamo se si togliendo questo si vede meglio eccolo qui adesso il vettore a forma con l'asse delle x un angolo di 33,7 gradi è chiaro che se io ruoto il vettore l'angolo cambia così come cambiano le componenti il limite se lo faccio tutto orizzontale la componente dall'angolo è 0 oppure tutto verticale l'angolo di 90 gradi se vado oltre l'angolo è maggiore di 90 gradi e una delle componenti sarà negativa e via dicendo che adesso vediamo qual è il legame tra la lunghezza del vettore l'angolo e le componenti x e y torniamo alla lavagna quindi una grandezza ripeto importante è proprio questa l'angolo chiamiamolo alfa che la il vettore forma con l'asse delle x a parità quindi di lunghezza del vettore le due componenti x e y fatemelo scrivere qui qui x e y sono dipendenti sia dall'intensità del vettore che dall'angolo alfa che il vettore forma con l'asse delle x per esempio ma in realtà andrebbe bene qualunque asse come asse di riferimento si prende l'asse delle x e normalmente si prende come verso positivo dell'angolo quello quello anti orario che per cui per esempio un se avessi un vettore formativo se riusciamo a tornare all'applicazione si è quella qua se ho il vettore che va sotto l'asse delle x vedete che l'angolo diventa negativo più o meno 21 gradi ok il 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 passaggio da l'informazione che ho che posso avere sull'intensità del vettore c'è la sua intera lunghezza l'angolo che il vettore forma con l'asse delle x e le sue componenti sono basate su due funzioni dette goniometriche perché dipendono dall'angolo immaginate di prendere un triangolo rettangolo questo è una cosa che vedremo un pochettino meglio anche in geometria immaginate che siano che ne so a b b cateti e c ripotenusa e che l'angolo in c misuri alfa l'angolo in basso a sinistra e misuri alfa ora se immaginate di sposti di tenere fisso l'ipotenusa e di ruotarla quindi cambiando le lunghezze dei due cateti c'è qualche domanda prof la vedevo si vedeva bloccato e non si sentiva ok adesso adesso va bene scrivi immagina vediamo se riusciamo ecco ok scusate per questo inconveniente tecnico troppo adesso puoi spiegare quello che appena fatto certo certo ripetiamo allora immaginiamo di che ci serve l'obiettivo qual è stabilire qual è il legame c'è come passare dall'informazione relativa alla lunghezza dell'intero vettore c'era il suo modulo l'angolo che il vettore forma con l'asse di riferimento tipicamente l'asse delle x e la lunghezza delle sue componenti x e y per far questo si sfruttano due strumenti che si chiamano funzioni goniometriche cioè funzioni che dipendono dall'angolo costruiamo un triangolo rettangolo abc e immaginiamo che alfa anzi scusate invertiamo questo in modo tale che a è opposto all'angolo alfa il cateto orizzontale abc immaginiamo di conoscere c la lunghezza dell'ipotenusa e l'angolo alfa di calcolare a e b la lunghezza di a cateto opposto ad alfa è data dal valore del rapporto del prodotto tra l'ipotenusa c per una funzione che si chiama seno dell'angolo alfa il valore del cateto b cateto adiacente all'angolo alfa è dato dal prodotto tra l'ipotenusa c e il coseno dell'angolo alfa cosa sono queste due funzioni che sono appunto le funzioni goniometriche in triangoli rettangoli per esempio che abbiano tutti la stessa forma ok quindi tutti gli stessi angoli interni si definisce per esempio in funzione seno dell'angolo il rapporto tra il cateto opposto all'angolo a e l'ipotenusa c il cateto opposto e ipotenusa mentre si definisce coseno dell'angolo alfa il rapporto tra il cateto adiacente b ripotenusa e eventualmente c'è anche un'altra funzione intanto vale darvelo lo stesso la tangente dell'angolo il rapporto tra il cateto opposto a e il cateto adiacente b dimmi vista per cateto adiacente si vedete che b è il cateto che forma con c l'angolo alfa in questo caso b è adiacente mentre a è il terzo lato quindi la è il lato opposto all'angolo ok fatemi precisare meglio questo fatemi rifare il disegno abbiamo l'angolo alfa qui c'è il lato a il lato b e c questo è il è il cateto opposto 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 all'alfa mentre questo b è il cateto adiacente all'angolo alfa d'accordo queste sono le definizioni le relazioni che definiscono le funzioni goniometriche di cui parliamo invertendo questa definizione il cateto a può essere espresso come c per sen alfa e b come c per cosen alfa ok qual è l'utilità di queste funzioni beh che sono dipendenti solo dall'angolo quindi se l'angolo è determinato il rapporto tra il cateto e l'ipotenusa è sempre lo stesso a e c possono variare ma il loro rapporto è sempre lo stesso quindi se conosco la lunghezza dell'ipotenusa e il valore dell'angolo posso determinare il cati la lunghezza del cateto c'è un'altra domanda quindi non ho ben capito in questo caso se volessimo calcolare a certo adesso facciamo un esempio per effetto e la maggior parte delle volte utilizzeremo funzioni cioè i valori di funzioni goniometriche seno coseno e tangente che sono quelle tabulate cioè quelle usando la calcolatrice ok sulla calcolatrice fatemi scrivere calcolatrice tascabile o da tavolo che sia scientifica trovate le funzioni sin che sta per seno cos che sta per coseno e tan che sta per tangente ok immaginate adesso in alcuni casi particolari i valori di seno coseno e tangente sono calcolabili in modo esatto questi sono i famosi angoli notevoli e sono i seguenti se per esempio qui metto l'angolo alfa qui mettiamo nella prima colonna il valore del seno dell'angolo nella seconda colonna il valore del coseno e nella terza colonna il valore della tangente abbiamo se alfa e 0 gradi gli angoli sono tutti in gradi il seno e 0 il coseno vale 1 la tangente vale 0 se alfa è diciamo 30 gradi il seno di alfa vale un mezzo il coseno radice di 3 fratto 2 e la tangente radice di 3 fratto 3 se l'angolo alfa di 45 gradi il seno vale radice di 2 fratto 2 il coseno radice di 2 fratto 2 e la tangente 1 se l'angolo vale 60 gradi il seno vale radice di 3 fratto 2 il coseno un mezzo e la tangente radice di 3 infine completiamo con l'angolo notevole che è 90 gradi il caso 90 gradi seno vale 1 il coseno vale 0 la tangente non si può calcolare facciamo un esempio immaginiamo di avere il nostro vettore ok qui abbiamo x e y però può tornare in attenzione certo in tutti gli altri casi in caso che ne so i dovessi calcolare il coseno di 35 gradi dovrei usare la calcolatrice avere un valore approssimato fate attenzione che la calcolatrice quindi attenzione la calcolatrice usa diverse unità di misura per i gradi ci sono i gradi e i gradi entrambe sono unità di misura per gli angoli nei gradi in sulla calcolatrice sono impostati se vedete la scritta da qualche parte legge perché in inglese grado si dice degree c'è un'altra domanda non ho capito in base a cosa sono per esempio un mezzo radici di due tratture allora il motivo per il quale i numeri i valori sono questi ok è legato alla geometria del triangolo lo vedremo meglio in matematica per adesso ci basta sapere che i valori sono questi ok prego però questi se non da imparare a memoria useremo sempre una tabella potete usare anche direttamente la calcolatrice solo che in questi casi avendo il valore esatto è un po' più semplice ma per adesso tutte le volte che avete da calcolare un seno, un coseno, una tangente potete usare direttamente la calcolatrice ok ok se la imparate a memoria è meglio perché comunque tra qualche anno vi toccherà imparare a memoria perché quando faremo goniometria in matematica questa è sono come le tabelline per cui è impossibile non imparare a memoria però adesso è un po' presto se lo fate ne avete vantaggi ovviamente allora ripeto torniamo al nostro vettore V qui che disegniamo sul nostro piano cartesiano e abbiamo quindi le sue proiezioni VX no, questa l'avevo fatta in verde VY è quella verticale e VX è quella orizzontale qui non metto il vettore sulle componenti perché intendo queste come lunghezza questo è il nostro angolo alfa quindi se volete posso riportare sulla destra un segmento verticale che non è altro che VY questa è VY ora se osservate in confronto al triangolo di prima qui abbiamo che VY è il cateto opposto ad alfa e VX ho scritto due volte VY non abbiate pazienza VX è il cateto adiacente è il cateto adiacente di conseguenza di conseguenza se conosco la lunghezza V del vettore e l'angolo alfa che il vettore fa con l'asse delle X per calcolare le componenti non faccio altro che per avere VX moltiplico V per il coseno dell'angolo alfa e VY lo calcolo come V per il seno dell'angolo alfa ok attenzione questo vale anche se alfa è più grande di 90 gradi nel quel caso la componente X sarà negativa la componente Y positiva e via dicendo in realtà questo vale per qualsiasi angolo quindi questo è come si passa da la lunghezza del vettore e l'angolo alle sue componenti facciamo un esempio semplice immaginate che il nostro vettore V abbia una lunghezza e misura che ne so 10 unità e l'angolo alfa che il vettore forma con l'asse delle X sia di 30 gradi a questo punto prego ma per esempio un po' in su un VX che è uguale a un V per il coseno di alfa certo perché V sarebbe comunque già l'ipotenusa esattamente il coseno si fa esattamente il lato adecente diviso l'ipotenusa quindi sarebbe diviso per l'ipotenusa perfetto esattamente molto bene quindi calcoliamo le due componenti VX vale V per coseno alfa quindi vale 10 unità per il coseno di 30 gradi che vale questo è radice di 3 fratto 2 quindi VX è 10 per radice di 3 mezzi quindi questo lo semplifico e 5 volte radice di 3 questo è il valore esatto se uno lo fa con la calcolatrice quindi 10 per il coseno di 30 diviene circa 8,66 volendo tenersi due decimali e basta ok è chiaro che se V ha una certa unità chiamiamola U unità ora qui ho 10U 10U e qui avrò 8,66 unità se invece vogliamo calcolare VY ora moltiplicheremo V per il seno dell'angolo alfa quindi avrò 10 unità per il seno di 30 gradi che è un mezzo questo vale un mezzo e quindi ho 10 per un mezzo che fa 5 unità quindi il nostro vettore V che sarà VX lungo il versore X più VY lungo il vettore Y avrà componenti che sono 8,66 unità in X più 5 unità in Y o se preferite per essere esatti 5 volte radice di 3 unità X più 5 unità Y ecco che in questo modo passo da il la conoscenza dell'informazione sul lunghezza e orientazione del vettore al valore quantitativo delle sue componenti ok si può fare l'inverso certo che si può fare l'inverso come si fa beh immaginate di avere quindi l'inverso quindi da VX e VY come determino V e alfa dimmi potrebbe al valore spiegare quello con le lettere che non ho ben capito quali lettere scusi? le unità sì certo qui ho messo ho scelto che V sia lungo 10 10 che cosa? beh 10 potrebbe avere un'unità che potrebbe essere metri chilometri quello che sia U è un'unità di misura U è un'unità che sarà quello che sarà di volta in volta potremmo anche non metterla ok quindi se ho 10 U VX sarà 10 U per il coseno di 30 gradi che è radice di 3 mezzi quindi 5 U per radice di 3 mezzi il 10 e il 5 si semplifica il 2 si semplifica non mi rimane 5 volte radice di 3 volte U unità che in questo caso è 8 e 66 unità nella Y invece il 10 U viene moltiplicato per un mezzo quindi 10 diviso 2 fa 5 ma U rimane quindi 5 unità per esempio 5 metri 5 chilometri non lo so qualsiasi cosa sia l'unità con cui misuriamo il nostro vettore ok come faccio l'inverso? beh l'inverso è molto semplice in realtà per determinare V è facile perché V lo calcolo con il termine di Pitacoro la radice quadrata di VX alla seconda più VY alla seconda ok? per determinare invece l'angolo è un pochino meno diretto perché se ho le due componenti VX e VY allora possiamo usare la terza funzione goniometrica quella della tangente abbiamo visto a suo tempo che il rapporto tra il cateto opposto in questo caso VY fratto il cateto adiacente che è VX è la tangente dell'angolo quindi siccome la tangente dell'angolo alfa vale VY fratto VX quindi il rapporto tra i due componenti allora sfrutto la funzione inversa sfrutto la funzione inversa della tangente sulla calcolatrice trovo tan con meno 1 in alto ok? questa è la funzione goniometrica inversa questo lo possiamo calcolare il rapporto delle V calcoliamo alfa l'angolo come la funzione inversa della tangente del rapporto tra le due componenti Y numeratore e X denominatore nel caso nostro alfa avrebbe nel caso del nostro esempio la funzione inversa della tangente di VY che era 5 volte radice di 3 U e VX che era un mezzo o anzi scusate un mezzo per V quindi 5 5 unità quelli due unità si semplificano il il scusate il contrario scusate li ho invertiti abbiate un attimo di pazienza ho messo X al posto di Y quindi abbiamo al numeratore VY quindi 5 unità denominatore 5 radici di 3 U le due unità si semplificano qualsiasi cosa siano i 2 e 5 si semplificano e mi rimane 1 fratto radice di 3 quindi questa è la tangente meno 1 di 1 fratto radice di 3 ok ok se vado a calcolare sulla calcolatrice vedo che è 60 gradi quindi ottengo l'angolo in questo modo fatemelo evidenziare in rosso c'è una domanda? sì ma in questo caso la tangente alla meno 1 sì per 1 fratto no no non è per si dice tangente inversa di tangente di 1 fratto radice di 3 è come dire la tangente senza cioè come alla prima quindi normale alla radice di 3 di no attenzione questo meno 1 non è un esponente indica la funzione inversa qualche volta ah quindi dice solo che è la funzione inversa bravo esattamente questo si può scrivere qualche volta anche come arco tangente ah ok ok sì effettivamente questo vi può portare fuori strada questo meno 1 è un po' strano l'ho scritto perché sulla calcolatrice trovate questa scrittura ma in realtà questo non è un esponente è solo qui ecco facciamo così se dall'angolo alla tangente la funzione è questa dalla tangente all'angolo la funzione prende il nome di tangente meno 1 ma come si utilizza tangente meno 1 sulla calcolatrice? perché il tasto è TAM cioè di tangente e se guardi sulla calcolatrice davanti anzi fammi fare un disegnetto qui qui hai sulla calcolatrice fammi fare per esempio questo è un disegno qui c'è il visore qui da qualche parte trovi il tasto con TAN ok sopra il tasto c'è TAN N meno 1 per accedere alle funzioni sopra c'è di solito o uno SHIFT oppure una 2ND da qualche parte per cui se schiacci prima questo SHIFT o questa seconda funzione attivi la funzione che c'è qua sopra che dipende da come è fatta la tua calcolatrice può anche essere che sia OPTN potrebbe essere si vediamo se io ho qui una calcolatrice da mostrarvi vediamo se la trovo la trovo questa per esempio la trovo la trovo questa per esempio vediamo se la trovo ecco vedete che ha qui dove nowhere dove qua non lo vedono qui eccola qua c'è al centro c'è scritto t a n sopra c'è t a n meno 1 ok per fare questo bisogna usare la seconda funzione questo seconda seconda tangente di che cosa di 1 diviso radice di 3 se riesco a trovare la radice questo non la uso tanto spesso sta calcolatrice non mi fa fare cambiamo calcolatrice vediamo se troviamo qualcosa di più appropriato questa funzione verso della tangente 1 diviso radice di 3 quindi che c'è 30 gradi qua a destra per l'operazione inversa quindi si fa 1 non 60 ma era 30 e qui ho sbagliato tensione che 30 torniamo appunto all'angolo di partenza ok proviamo vediamo se riusciamo a fare questo tentativo cambiamo esercizi media immaginate di avere questo vettore a una componente vx che misura che ne so tre unità la componente v y misura cinque unità ok quanto vale la lunghezza del vettore e quanto vale l'angolo che forma con l'asse delle x quindi fatemi fare un disegno ok qui abbiamo la x e la y qui abbiamo tre unità quindi 1 2 3 e qui 5 1 2 3 4 e 5 quindi il vettore si trova qui la punta è qui quindi lo disegno in questo modo questo è il nostro v e questo è il nostro alfa allora per trovare v abbiamo già detto che utilizziamo il teorema di pitagora quindi vx alla seconda più v y la seconda quindi abbiamo la radice di tre unità al quadrato più 5 unità al quadrato quindi abbiamo 9 una seconda più 25 una seconda che fa radice di 34 unità al quadrato quindi circa la radice di 5,83 circa unità l'angolo invece con l'asse delle x sarà tangente inversa di v y che era 5 unità diviso 3 unità quindi 5 terzi la tangente inversa quindi seconda funzione di 5 fratto 3 e viene circa 59 gradi ok provate a esercitarli con l'uso della calcolatrice e vedete se 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 vi torna attenzione il la calcolatrice deve essere impostata in gradi per saperlo se è impostato in gradi o no è sufficiente digitare quindi per verificare che la calcolatrice si è impostata in gradi è sufficiente digitare per esempio seno di 30 e questo deve darvi 0,5 se non vi da 0 5 o un mezzo allora non è in gradi gradi sulla calcolatrice è impostato come o deg oppure di l'altra unità di misura sono i radianti rad oppure r a seconda della calcolatrice useremo molto spesso i radianti però dobbiamo ancora introdurli lo faremo più avanti nel corso di matematica più o meno ok per oggi direi che ci possiamo fermare qui troppo può tornare un secondo su ok 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 ok